8 anni fa il delitto di Isabella 90, Manuela Cacco condannata per la complicità nel suo omicidio potrà uscire dal carcere per fare volontariato. Saranno nuovamente ascoltati gli amici del 26enne accoltellato nell'appartamento di via Falloppio dalla fidanzata 17enne, i carabinieri vogliono capire i motivi della lite. Tragedia ieri in Valliona, sui colli berici un escursionista di Selvazzano Dentro si sente male durante una passeggiata e muore. Grave infortunio ieri per un piccolo sciatore padovano di 9 anni alle melette di gaglio, il bambino è grave all'ospedale di Vicenza aperta un'inchiesta. Raffrica di furti a 90 padovana, il quartiere di Oltrebrenta presa di mira da una banda di ladri acrobati. Cantieri per la seconda linea del tram, chiude oggi l'incrocio tra di asografi e di afforcellini, ecco come cambia la viabilità. Emma Maria Mazzenga, la novantenne sprint padovana, batte il record di velocità nei 200 metri indorni, la categoria Master 90 nel parmareste della Supernonna, due primati mondiali. TG Padova, buongiorno e ben ritrovati. In apertura la cronaca grave infortunio ieri per un piccolo sciatore padovano di 9 anni alle melette di gaglio, sull'altopiano di Asiago nel Vicentino, ma ci racconta tutto in diretta la nostra Vanessa Banzato. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te Sharon, alle persone che ci stanno seguendo. Hai detto bene perché questo ragazzino di 9 anni che è residente nel Padovano, ieri davvero ha rischiato la vita perché è scivolato. Dopo essere salito su questa seggiovia, chiedo a Renzo Rigon cortesemente di inquadrare, vedete, sta salendo verso il monte Longara, tra l'altro il nome che è dato alla sciovia. Il ragazzino poco dopo essere partito dalla base, pare per motivi ancora da capire, si è scivolato sotto la sbarra che lo contiene, che mantiene appunto la sbarra di sicurezza, è stato afferrato al volo dall'adulto che lo stava accompagnando, solo che a un certo punto essendo stata inserita la retromarcia della funivia per cercare in qualche maniera di riportare a valle il ragazzino, la persona che lo stava accompagnando, la persona che era con lui ha perso la presa e il ragazzino è caduto proprio sulla strada che state vedendo. È stato un impatto violentissimo, se fosse riuscito a cadere sulla neve almeno qualcosa avrebbe attutito, purtroppo è caduto sull'asfalto e ha riportato traumi, traumi importanti al bacino, alle gambe. In questi minuti il ragazzino si trova ricoverato, si trova in sala operatoria, e si trova sotto i ferri proprio perché i medici stanno cercando il tutto e per tutto per riuscire a curarlo. È stato elitrasportato infatti dopo la caduta e dopo le prime cure da parte dei sanitari dell'ospedale di Asiago, è stato elitrasportato sino al San Bortolo di Vicenza e in questo momento si trova in sala operatoria. Assieme a me Gianni Bonetti è il direttore tecnico della schiaria Le Melette. Buongiorno, cerchiamo di capire come può essere successa una cosa del genere. Questo è tutto da verificare perché l'imbarco è stato fatto regolarmente, abbiamo tutti i video che lo fanno vedere e poi durante il viaggio chiaramente noi non riusciamo a capire cosa può succedere. Adesso che questo sarà da verificare, i carabinieri stanno facendo tutte le indagini del caso e capiremo magari dall'adulto che accompagnava cosa realmente è successo. Sì, perché tra l'altro l'impianto è nuovissimo, è stato inaugurato a febbraio dell'anno scorso. Esatto, è stato inaugurato l'anno scorso, la macchina è nuova con tutte le sicurezze del caso, le velocità e tutto, ma noi non controlliamo, fa tutto da sola praticamente. Dobbiamo solo controllare che quando entrano si segano regolarmente, chiudano la sbarra e poi partono per il viaggio lungo la linea. Providenziale il fatto che il tecnico in questione abbia attivato la retromarcia, perché se no sarebbe stata davvero peggio la cosa. Sì, diciamo che sono stati pronti i ragazzi a mettere la retro per cercare di riportarlo in stazione e purtroppo a tre metri, quattro metri dalla stazione l'adulto non riusciva più a tenerlo e il bambino è caduto. Chiedo a lei, che cosa si potrebbe, allora abbiamo detto un impianto in totale sicurezza è nuovissimo, ma cosa si potrebbe fare di più per mettere ancora più in sicurezza una struttura simile? Ma allora, le seggiole con la sbarra che hanno adesso, una volta chiuse, diciamo sono molto sicure, anche perché si appoggiano gli sci sopra al portasci e di conseguenza, ma anche se non appoggiassimo gli sci, la sbarra una volta chiusa non si apre da sola, la devi tirare su. Sono anche convinto che comunque chi scia deve essere anche consapevole che non è, e io la chiamo una giostra, dobbiamo stare attenti perché sia la fase di imbarco, il viaggio e lo sbarco bisogna stare un attimo attenti. Dopodiché è chiaro che la prevenzione si fa, si cerca di sensibilizzare tutti, attenzione, lo si dice all'imbarco, con l'altoparlante a volte durante la linea si continua a ricordare, state seduti, mi raccomando, insomma lo stiamo già facendo e chiaramente aumenteremo questo modo di prevenire il più possibile questi incidenti. Un'ultima battuta, provvidenziale è stato il fatto che alcune persone presenti avessero bloccato il traffico, se fosse passata una macchina mentre il ragazzino cadeva sarebbe stato ancora peggio. Sì, sì, certo, certo, certo. Adesso chiaramente sono passati un paio di minuti sicuramente dal momento in cui i ragazzi hanno avvisato di questo, il parcheggio era pieno, la gente che era qua ha visto e è stato bravissimo che ha bloccato e ha cercato anche di attutirne la caduta quando il bambino è stato il signore che c'era, bravo perché lo ringraziamo per questo. Adesso credo che la cosa più importante sia che il ragazzino stia bene, che venga messo a posto e dopodiché ci saranno le indagini del caso e questo però non complesso. Sarete ascoltati proprio dei carabinieri voi tra l'altro? Sì, sì, i carabinieri hanno già ieri, hanno fatto tutte le indagini del caso, lo stanno continuando con la magistratura, sta facendo il suo corso, insomma. Bene, allora io ringrazio Gianni Bonetti, il direttore tecnico della schiarea Le Melette. Sharon, da Le Melette è tutto. Grazie alla nostra Vanessa Banzato. Cambiamo ora argomento perché nel giorno del delitto di Isabella 90, Manuela Cacco, condannata per la complicità del suo omicidio, potrà uscire dal carcere una volta alla settimana per fare volontariato. Sentite. Otto anni fa, la notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016, Isabella 90 veniva uccisa dai fratelli Freddy e Deborah Sorgato con la complicità di Manuela Cacco, la tabaccaia di Camponogara, ex amante del ballerino camionista. Oggi la donna potrà uscire dal carcere una volta alla settimana per 4 o 5 ore per andare a fare volontariato. La Cacco, unica del terzetto diabolico ad aver collaborato con gli inquirenti, è stata condannata in via definitiva a 16 anni e 10 mesi per aver partecipato all'organizzazione dell'omicidio e poi alla soppressione del cadavere di Isabella e anche per stalking nei confronti della noventa e di simulazione di reato. Manuela Cacco, la notte del delitto, si era anche prestata alla messa in scena camminando nelle piazze di Padova, indossando il giubbetto bianco di Isabella e fingendo di essere la donna per depistare le indagini. Manuela Cacco è rinchiusa da 8 anni nel carcere della Giudecca a Venezia. Ha scontato metà della sua pena, uscirà un solo pomeriggio alla settimana. Il suo avvocato però non esclude che più avanti possa anche iniziare a fare delle attività lavorative. La notizia della sua attività di volontariato arriva nel giorno dell'anniversario della morte di Isabella, il cui corpo non è mai stato ritrovato. Per la famiglia 90 si tratta di un nuovo dolore. Comunque la Cacco, anche lei, ha deciso di uccidere mia sorella insieme agli altri tre, anche se non è stata l'esecutrice materiale, ma comunque lei ha premeditato insieme agli altri due di uccidere mia sorella. Adesso la resa italiana purtroppo è questa e la accettiamo per quello che è. Ha collaborato con la giustizia e allora ne hanno tolto 15 anni così. Me la troverò in giro per strada, non so come reagirò, ma me ne farò una ragione. Torniamo ora a parlare dell'accoltellamento di via Falloppio a Padova. Ci sono novità? Un nuovo giro di interrogatori per capire cosa sia accaduto in attesa di ascoltare anche il 26enne gravemente ferito ancora ricoverato in ospedale a Padova in terapia intensiva, seppur fuori pericolo di vita. Non si fermano le indagini dei carabinieri dopo l'accoltellamento avvenuto venerdì intorno alle 4 in questo appartamento di via Falloppio di fronte all'ospedale. In carcere da venerdì sera con l'accusa di tentato omicidio una 17enne che da qualche settimana aveva una relazione con lui che al termine di una violenta discussione ha preso un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri e lo ha colpito. È stata la giovanissima a fare le prime emissioni i carabinieri che avevano portato in caserma lei con gli altri due amici presenti nell'appartamento, un 21enne Giuliano Freda, una 18enne. I quattro avevano passato la serata insieme in alcuni locali tra Padova e Vicenza, poi si erano ritrovati nell'appartamento di Freda che in quel momento stava cucinando. È stato proprio lui con l'amica a chiamare i soccorsi. Qual è stata la causa di una lite tanto violenta da finire in questo modo? Questo stanno cercando di stabilire gli inquirenti. Una baby bull alla 17enne che a luglio era stata identificata dalla polizia come una delle quattro giovanissime che in Prato della Valle aveva minacciato, malmenato, rapinato una coetanea colpevole di aver scambiato qualche messaggio con un ragazzo. Portata nel carcere minorile di Treviso, la 17enne a breve sarà sottoposta all'interrogatorio di garanzia. Tragedia sui colli berici. Domenica pomeriggio un escursionista a Padovano si è sentito male, ha perso la vita mentre era impasseggiata. Malore fatale per un escursionista a 60enne residente nel Padovano a Selvazzano Dentro. Il dramma, ieri nel pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti sui colli berici nella zona di San Germano dei Berici nel territorio di Valliona per soccorrerlo. L'escursionista, secondo le ricostruzioni dei soccorritori, avrebbe accusato un malore mentre stava percorrendo il sentiero 51 di Villa del Ferro. L'uomo è stato soccorso dal personale del suo e ma è arrivato in elicottero, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche una squadra del soccorso alpino. La salma è stata poi trasportata fino alla strada. Sul posto i carabinieri di Campiglia è 90. Torniamo a Padova. 10 ammonimenti per violenza domestica in appena 7 giorni. In una settimana ben 10 provvedimenti di ammonimento per episodi di maltrattamenti e violenze avvenute nell'ambito familiare. È il bilancio dell'attività di prevenzione messa in campo dalla questura di Padova in appena 7 giorni. L'effetto Giulia Cecchettin. Un quarantenne della provincia di Padova non sopportava il lavoro svolto dalla sua fidanzata a 25 anni. La donna lo ha lasciato, ma lo ha iniziato a minacciarla, arrivandolo anche a chiuderla in casa e costringendola ad uscire dalla finestra e tentando più volte di avvicinarla. Il questore ha così deciso per l'ammonimento, provvedimento adottato anche per un quarantotenne della provincia che non si era rassegnato alla fine della storia con la sua compagna e si era presentato a casa sua sferrando calci e pugni alla porta d'ingresso, perseguitando con messaggi la figlia della donna e il suo attuale compagno, a cui anche tagliati i pneumatici dell'auto. Ammonimento anche per un quarantenne vicentino che lo scorso novembre aveva aggrito la compagna, una cinquantenne residente in via palestra a Padova, lacciandole contro un tavolo da cucina. La donna, ferita al volto, era stata a soccorso da un vicino di casa che aveva allertato la polizia. Nel mirino della questura anche una donna di 46 anni romena che maltrattava il marito, un cinquantasetenne padovano, che a fine dicembre è finito in ospedale dopo essere stato preso a morsi. Infine un trentotreenne vicentino, residente a Padova con la sorella, è stato ammonito per averla presa a pugni dopo una rite. Ladri Acrobati a Noventa Padovana, le razzie si spostano nella cintura urbana, ma ci racconta tutto diretto la nostra Valentina Visentini. Buongiorno. Buongiorno, ci troviamo nel quartiere di Oltrebenta di Noventa Padovana, preso di mira dai ladri negli ultimi giorni. Ladri Acrobati che si sono accaniti con questi condomini che vedete alle mie spalle arrampicandosi lungo i tubi delle grondaglie del gas hanno raggiunto gli appartamenti che sono stati messi a soccuadro e razziati. Qui con me c'è il sindaco di Noventa, Marcello Bano. Sindaco, i controlli della Polizia Locale sono intensificati, di recente avete anche firmato un'intesa che coinvolge anche i comuni vicini proprio per aumentare i controlli sul territorio. Sì, soprattutto grazie alla videosorveglianza. Dispiace perché noi siamo sempre vicini alle famiglie quando succedono questi fatti, non riusciamo a deberarli completamente anche se i risultati sono buoni rispetto agli anni precedenti, però non siamo assolutamente soddisfatti di quello che sta succedendo. Ci sono i carabinieri in questo momento che stanno indagando, sono a buonissimo punto, anzi, però di più non posso dire. Noventa resta uno dei comuni più videosorvegliati. Sì, assolutamente, stiamo investendo molto, abbiamo il territorio, potrei dire, quasi il più videosorvegliato di tutti, tra l'altro anche con un sistema molto evoluto di Targa System, quindi sappiamo esattamente chi sta entrando in questo momento e chi esce e abbiamo diverse telecamere praticamente in quasi tutte le vie, non siamo, ripeto, lo stiamo ancora implementando e stiamo ancora investendo molti, molti soldi. Ecco, proprio grazie alle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri dunque potrebbero essere anche vicini ad identificare i malviventi che si stanno, abbiamo visto come di recente dall'Alta Padovana si siano spostati verso la cintura urbana. Da Noventa Padovana è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Valentina Visentin. Cambiamo decisamente argomento, troviamo a parlare di terzo mandato per governatori e sindaci. Sul tema è intervenuta Elisabetta Gardini, deputato di Fratelli d'Italia. Si parla molto di regionali, per il Veneto soprattutto, di terzo mandato per il governatore Luca Zaia. Nello scacchiere della politica e soprattutto delle regioni sembrano muoversi dei tasselli che vedono incredibilmente unito il destino della Sardegna con quello del Veneto per i nomi di eventuali governatori. La questione del terzo mandato non è legata, ovviamente una questione legata alle persone e bisognerà fare delle valutazioni. Noi vediamo che la più antica democrazia al mondo, quella americana per esempio, ha il limite dei due mandati. Ci sono delle valide ragioni che supportano un limite ai mandati. Vediamo se l'approfondimento del tema porterà a confermare la validità di questa scelta, oppure se ci saranno delle ragioni diverse che invece fanno pensare che ci possa essere anche un ulteriore mandato. Io personalmente ad oggi penso che il limite dei due mandati sia una scelta ragionevole. È una cosa su cui si sta riflettendo per esempio anche per la riforma del Premierato, anche per il Presidente del Consiglio. Non sono temi da sottovalutare, non sono forma, sono sostanza quando si parla di creare finalmente in Italia è una democrazia moderna, adeguata alle sfide enormi che ci troviamo ad affrontare. Torniamo ora a parlare della seconda linea del tram. Ci sono novità. Ultime ore di apertura per l'incrocio tra via Sografi e via Forcellini. Da questo pomeriggio infatti verrà chiuso per un mese l'incrocio per consentire i lavori per la realizzazione della seconda linea del tram, il Sir 3. È il nono cantiere aperto in contemporanea per la realizzazione dell'opera inserita tra i progetti finanziati dal PNRR e che quindi dovrà essere ultimata entro il 30 giugno 2026. Sono già state segnalate le deviazioni. Chi arriva da via Facciolati dovrà girare in via Modena e poi in via Rosmini per arrivare in via Sografi. Chi arriva dal quartiere Forcellini dovrà percorrere via Delellis e poi via Nazareth. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale è la linea 6 ad essere interessata. Seguirà ora il percorso della 13. A fine febbraio il cantiere si sposterà su via Sografi e in questo caso è prevista la chiusura totale della strada. Grande il dolore a Piove di Sacco per la morte di Alessandro D'Angelo, 56 anni, era poliziotto dell'anticrimine in servizio a Padova, oltre che segretario generale della SIAP della provincia. Colpito a fine novembre da un ictux e da un infarto non sarà più ripreso ed è mancato in ospedale sabato. Il funerale di Alessandro D'Angelo sarà celebrato mercoledì 17 gennaio alle 15 nel Duomo di Piove di Sacco. E ora torniamo a parlare della mancata intitolazione dell'architetto Quirino De Giorgio. Continua la polemica sulla mancata intitolazione a Quirino De Giorgio dell'istituto comprensivo di San Giorgio delle Pertiche e Santa Giustina in Colle. Una polemica nata dal veto che è stato posto in quanto l'architetto padovano non è stato ritenuto significativo dal punto di vista valoriale vista la sua adesione al regime fascista. Una motivazione che però lascia perplessi i due sindaci dei comuni dell'Alta Padovana dove sono presenti opere di De Giorgio stimato architetto anche negli anni del dopoguerra. Credo che soprattutto in questi casi bisognerebbe avere dei criteri di valutazione oggettivi ed è oggettivissimo il fatto che Quirino De Giorgio abbia segnato in maniera positiva il territorio di San Giorgio delle Pertiche e anche quello di Santa Giustina in Colle costruendo opere come il cimitero, il memoriale, come il palazzo dei Toni, come le stesse scuole elementari di Santa Giustina in Colle che sono opere uniche, sono opere d'arte che vengono apprezzate, che sono state inserite all'interno di libri di architettura e di storia e quindi ne hanno caratterizzate e ne caratterizzeranno anche nel futuro proprio l'identità territoriale. Quindi insomma al di là di quello che può essere un passato di gioventù dell'architetto io credo che il criterio oggettivo della valutazione non possa che essere il criterio migliore ogni volta al di là giustamente dei paraocchi. Ci spostiamo ora a Voh, riportata alla luce la stelle che ricordava Orlando Calaon, ucciso dalle brigate nere nel 1944. Pulire per non dimenticare, questo è l'obiettivo di volontari che sabato mattina hanno sistemato un monumento dedicato tra i vigneti di Voh a Orlando Calaon. Aveva solo 30 anni, moglie e figli, quando una scarica di mitra sparata da una squadra di camicie nere lo uccise mentre tentava di fuggire. Era il 16 luglio 1944. In sua memoria era stata eretta questa stella intracchite posta sull'inutile via di fuga percorsa dall'agricoltore che tutti chiamavano Orlandino, che negli anni era stata coperta e nascosta dalla vegetazione e dall'incuria, fino a quando la mano pietosa di un gruppo di cittadini ha pensato di riportarla completamente alla luce. Passiamo ora allo sport, domenica da ricordare per l'Atletica Padovana. 54 secondi e 47, un tempo da record del mondo, quello di Emma Maria Mazzenga, che ha corso i 200 metri indoor, demolendo nella categoria Master 90 il primato di un minuto stabilito 13 anni fa dall'atleta canadese Olga Colteico. Nata il 1 agosto 1933, 90 anni compiuti, Emma Maria Mazzenga arriva da 4 mesi di stop per una frattura. Nonostante tutto, con grande volontà, ripreso quasi subito a fare movimento, tornando a indossare le scarpette chiodate solo un mese fa. Una passione la sua per l'atletica è iniziata ai tempi dell'università. Insegnante di scienze al liceo, due figli, la novantenne sprint ha ripreso l'attività agonistica a 53 anni e non si è più fermata, battendo record su record. Ad oggi la velocista padovana detiene due primati mondiali, sei primati europei, 28 migliori prestazioni italiane di categoria. Nella sua carriera master ha vinto 21 titoli mondiali, 50 titoli europei, 113 titoli italiani. Emma, che per non farsi mancare nulla vive in un appartamento a secondo piano senza ascensore, non si fermerà qui e guarda già i prossimi impegni, compresi gli europei di Torun in Polonia. E a proposito di grandi traguardi, compleanni speciali nel Padovano, sentite. Classe 1922, ma ancora in gamba, la signora Lavinia Fasolato Ghion, che a Zemigliana di Massanzago ha spento le sue prime 102 candeline, festeggiata dai quattro figli, da sette nipoti e da nove pronipoti, trovando anche il tempo per offrire un caffè per l'importante compleanno al sindaco e al parroco del paese. Due candeline in più per Adelaide Contin, che a Busiago di Campo San Martino ha tagliato il traguardo dei 104 anni. Orfana di mamma a soli sei anni, Adelaide era sposa a 17, occupandosi per decenni dell'azienda di famiglia che produceva scope di saggina. Con lei hanno fatto feste i suoi dieci figli, i 26 nipoti, i 46 pronipoti e i 13 bimbi, di cui è trisnonna. Da Padova è davvero tutto, grazie per averci seguito e un buon pomeriggio a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.